E per intercessione di Santa Rita vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Anche se la Puglietta non arriva fino in fondo, parlo lo stesso. Santa Rita, prega per noi. Adesso benedico la rossa che deve restare dalla Messa, resta dalla Messa, che deve uscire dalla porta centrale o dal confetto. Grazie. 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 Grazie.